Si torna alla normalità, la palestra Bruno Venturini di Fano, dove sono riprese le attività sportive dopo i lavori di bonifica dell'amianto. Nella città della Fortuna sono state ben 155 le tonnellate complessive di materiale nocivo rimosso dagli immobili comunali, come al palazzetto dello sport Salvador Allende, in cui è stato eseguito l'intervento più significativo, all'ex amatatoio, in alcune scuole, in diversi fabbricati, nelle palestre, case, coloniche, comprensive di pollai, finili, depositi e locali accessori. Per l'occasione l'impianto sportivo di Viale 12 Settembre è stato inaugurato alla presenza dell'onorevole Sidi Avelo, sottosegretario all'ambiente e Camilla Fabri, senatrice PD. Devo dire che sono molto contenta di partecipare a questa inaugurazione, non fosse altro perché vengo da questo territorio, ma in coincidenza anche col fatto che presiede una commissione d'inchiesta proprio dedicata ai temi della sicurezza e della tutela della salute sui luoghi di lavoro. Credo che sia un'esperienza, una buona prassi, che ci permette di guardare con soddisfazione rispetto al tema dell'amianto in futuro. Se noi consideriamo che la legge che bandisce l'amianto è datata in 1992, oggi a Fano si può dire che l'amianto non è più presente in nessun luogo pubblico, e noi possiamo tranquillamente pensare di poter esportare questo modello perché la questione ammianto, che ha flagellato la vita di tante persone nel nostro paese, possa essere definitivamente debellata, compreso il fatto che abbiamo proposto, e ce ne siamo incaricati come commissione, di redigere un testo unico perché sulla questione ammianto in Italia ci sono circa 400 norme. Quindi massima soddisfazione perché proprio partendo dal mio territorio posso raccontare questa esperienza che possa essere di monito e di accelerazione verso la definitiva risoluzione e soluzione del problema. Durante un convegno oggi sono stati illustrati i risultati ottenuti e raggiunti in soli tre mesi di lavoro per un importo complessivo di 1.400.000 euro. Fano non ha mai investito così tanto per la riqualificazione ambientale e di conseguenza per la tutela della salute pubblica. Il patrimonio pubblico non c'è più un centimetro di ammianto, è l'unica città delle Marche che ha fatto lavoro del genere e penso una delle uniche in Italia. E non a caso oggi il sottosegretario dell'Ambiente viene qua per riconoscere questo merito e anche la settimana prossima in un convegno fanno vera presa da esempio quindi sarà oggi un report anche di buone prassi che hanno visto un lavoro di sinergia tra Comune, Asur ditte che hanno vinto gli appalti importanti che ha portato a questi risultati. Quindi grande soddisfazione per questo grande risultato che porta un risultato importante per i nostri cittadini ma anche una soddisfazione per me, per noi, per l'amministrazione e per questo lavoro che abbiamo raggiunto.